Sono in crescita tutti i numeri dei principali indicatori della pandemia in Puglia, dove nelle ultime 24 ore si registra un aumento di contagi giornalieri, ricoveri e persone attualmente positive, mentre il virus fa altri 7 morti. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico diffuso dalla regione che oggi, giovedì 10 marzo, segnala 4.713 nuovi casi accertati a fronte di circa 27.800 tamponi analizzati. Province più colpite si confermano quelle di Lecce e Bari, rispettivamente con 1.488 e 1.311 contagi, seguite da Foggia con 606, Taranto 500, Brindisi 386 e infine Labatte con 360 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 41 residenti fuori regione e 21 di provincia in via di definizione. La somma dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza Covid tocca così quota 772.795. Peggiora purtroppo anche il bilancio delle vittime della pandemia, con altri 7 decessi in un solo giorno e che fanno salire il totale dei morti a 7.767. Brutte notizie anche quelle che arrivano dal fronte sanitario, con i ricoveri che dopo un leggero calo tornano a salire. I pazienti affetti da coronavirus che si trovano in ospedale sono in tutto 572, 10 più di ieri, di cui 543 in area non critica e 29 in terapia intensiva. E cresce anche il dato relativo ai pugliesi attualmente positivi, che superano la soglia di 76.600, oltre 1.200 in più rispetto al precedente bollettino. Unica nota lieta è come sempre quella riferita ai negativizzati, che sfondano ormai il tetto dei 688.000, con quasi 3.500 guariti nelle ultime 24 ore.